Se mi sentite, benvenuto Baloo con Loredana Vallone. Loredana Vallone Vabbè, io ho commentato poco, ce lo diremo scrivendo perché c'è un po' di casotto. Allora, baci Baw da Baloo e da Loredana a tutti i battiti di cose, zia e mamma e tutti quanti. Ok? Ciao, baci! Anche da Luba e chiaramente da Martina. Devo spegnere, ciao!